Diciamo che nei progetti di design secondo me l'attenzione per l'utente è la cosa essenziale. Per questo uso moltissimo anche la memoria perché è uno dei mezzi che fa sì che l'utente riesca a leggere bene quello che ha di fronte e quindi ad interpretarlo facilmente e ad avere un rapporto molto immediato, molto facile e che non lascia scampo ad errori. Ecco, se un progetto limita gli errori di chi li utilizza, secondo me è un buon progetto. E qui però bisogna essere fortunati a trovare quelle industrie, quelle aziende che approvano in toto quello che tu hai fatto e non ti pongono veti, non ti mettono dei limiti. Estas collaborazioni che a Oli procura tra l'industria e l'arquitetura sono molto di contro quello che è la strategia dell'Oli, che è conseguire desenvolver prodotti che siano prodotti apti per l'arquiteto di usare nei suoi progetti. Sono placi che sono pensati per che questa interazione sia realmente facile, il più e meno, il meno è più, tutto questo è un'educazione per l'arquiteto di acqua, che noi procuriamo fare via design e via ingegneria di prodotti. E quindi in una prima fase mi ero soltanto concentrato a descrivere due lunghezze diverse, quindi ad impostare due lunghezze diverse nei cordini che potessero aiutare l'utente a capire quale lo dovesse utilizzare. Tenere la corda ben tesa, il peso, serve ad indicare inedicocabilmente che quell'oggetto deve scendere. Per forma, se ha un peso sotto, quell'oggetto deve continuare a scendere. Quindi l'utente quando vede qualcosa appeso va lì e la tira. Non ha bisogno di spiegazioni. È importante che l'olio abbia una abordazione junto con gli architetti, perché sono anche responsabili per l'efficienza hídrica. L'ess non vuol dire soltanto poca acqua, ma vuol dire che forse è meglio che ne utilizziamo meno, per un messaggio di sostenibilità, un messaggio green, ma significa anche l'ess più minimale, più semplice. che sia meglio, più attrativo e che vada in conto ai obiettivi degli architetti. Grazie. Grazie a tutti.